Quest'oggi presentiamo il 7 Mozart che è il nuovo smartphone di HTC e come lascia intendere la sigla 7 si tratta di uno smartphone appunto come Windows Phone 7, il nuovo sistema operativo per smartphone di Microsoft come vediamo il form factor è leggermente più moderno e elegante della maggior parte dei modelli come Windows Phone 7 usciti nel periodo del lancio, in particolare HTC ha scelto una soluzione molto simile al Desire, l'HTC Desire che è uno smartphone Android del catalogo di HTC, come il Desire il 7 Mozart ha lo chassis unibody in alluminio lo schermo è un display LCD da 3.7 pollici con soluzioni di 800x480 pixel e il sistema operativo appunto è Windows Phone 7 Windows Phone 7 che come ha voluto Microsoft è praticamente offre un'esperienza uniforme passando da un dispositivo all'altro quello che abbiamo sbloccando lo schermo è essenzialmente l'interfaccia che troveremo su un qualsiasi dispositivo Windows Phone 7 salvo in questo caso particolare per queste tre mattonelle come vengono chiamate gli elementi, queste icone animate dell'homescreen di Windows Phone 7 che sono personalizzate da HTC, HTC infatti è riuscito a includere sul suo termine di Windows Phone 7 l'HTC Hub l'HTC Hub che adesso lanciamo e che ci permette già di apprezzare la fluidità delle animazioni della grafica in generale di questo smartphone offre praticamente il classico widget meteo più orologio che troviamo sotto gli smartphone HTC e una selezione di applicazioni, alcune preinstallate, altre installabili in esclusiva sui terminali HTC da Marketplace con una sezione appositamente creata che si chiama HTC Apps qui possiamo vederne alcune preinstallate, ad esempio il software che permette di accedere alle impostazioni Dolby Mobile e SRS di True Surround per il virtual surround virtuale in cuffia altre applicazioni fornite da HTC comprendono, oltre a un widget per la borsa un convertitore di unità di misura che vediamo qua, pratico forse abbiamo un'applicazione per le note molto carina in questo caso che sfrutta la potenziale animazioni del sistema operativo di Microsoft vediamo le nostre note possiamo spostarle, aprirle e ovviamente editarle e una serie di filtri per creare delle foto un po' più particolari partendo da quelle realizzate con la fotocamera selezionano la foto dal nostro rullino e si applicano appunto i filtri a disposizione e poi si possono risalvare i risultati così ottenuti dicevamo che l'interfaccia è praticamente uniforme tra i dispositivi Windows Phone 7 e come sono dispositivi anche in questo caso possiamo apprezzare l'estrema fluidità delle animazioni la perfetta reattività del display touchscreen le prestazioni sono quelle di un buono smartphone di fascia medio alta ciò che invece non ci ha particolarmente entusiasmato dell'HTC 7 Mozart è la fotocamera fotocamera e videocamera infatti non sono a nostro avviso all'altezza della situazione soprattutto a livello di dettaglio e risa finale delle foto la fotocamera appunto scatta in 8 megapixel qua possiamo vedere le impostazioni abbiamo la possibilità di selezionare dei profili di scatto essenzialmente i programmi di esposizione applicare dei semplici effetti in camera e scegliere come impostare l'autofocus passando alla videocamera possiamo scegliere la ripresa 720p che tra l'altro non viene mai impostata di default bisogna selezionarla tutte le volte a mano e anche in questo caso per il video abbiamo oltre alla regolazione dell'autofocus la possibilità di scegliere dei semplici effetti in camera di scegliere dei semplici effetti in camera